Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao Buongiorno amici, mi chiamo Giulio Lubelli, ho 90 anni e sono italiano. Quando è scoppiata la guerra ero solo un ragazzino, ma niente potrà cancellare i ricordi della guerra, della fame, della paura, della morte di quegli anni. In questa giornata così importante vorrei ricordare il grande sacrificio del popolo sovietico e ricordare tutti i caduti in guerra. È preciso il dovere di tutti noi trasmettere alle generazioni future questi ricordi, affinché non si ripetino più questi orrori. Il 9 maggio è la testa della vittoria. Vorrei quindi congratularmi con tutti i veterani, il presidente della federazione russa Vladimir Putin e tutto il popolo russo. Un carabraccio dall'Italia.